Puntuale come sempre ad ogni inizio estate, arriva anche quest'anno a Corsico la Notte Rosa, la Kermes dedicata all'universo femminile, organizzata dall'amministrazione in collaborazione con le associazioni del territorio e commercianti del centro. La serata è stata anticipata dal forum sui beni comuni, biodiversità, acqua, cibo e diritti umani. Ospite d'eccezione, Vandana Shiva, fisica, economista e attivista politica indiana, che denuncia da anni le conseguenze disastrose che il cosiddetto mal sviluppo ha portato nei paesi del terzo mondo. E lei a sostenere che la biodiversità sia la via per permettere di far risorgere un'economia che è ormai al collasso. Penso che il più importante ruolo delle donne nella lotta contro la povertà e la globalizzazione che crea povertà è quello di portare al centro un paradigma che sostiene la vita piuttosto che uno che la distrugga. Abbiamo visto che un'economia dominata dagli uomini collassa. Abbiamo bisogno di donne che definiscano l'economia così che le donne e la natura siano al centro di ciò che è l'economia. Abbiamo bisogno di rendere più visibile il mondo delle persone e dobbiamo creare un tipo di economia in cui nessuno sia di troppo. A lei e alle altre donne che credono fortemente nel potere della scienza come strumento per migliorare il mondo è stata dedicata la Notte Rosa 2009. Abbiamo voluto mettere l'attenzione sulle donne di scienza perché abbiamo colto questa occasione che ci ha dato quest'anno queste due associazioni, Shanti e Paliacate, che hanno proposto questo convegno con Vandana Shiva perché pensiamo che le donne nelle comunità scientifiche abbiano un ruolo importantissimo perché sono portatrici della cultura del limite. Nel corso del forum sono stati anche allestiti stand espositivi dei produttori del Parco Agricolo Sud Milano per valorizzare il sistema della filiera corta, cioè dal produttore al consumatore, come ha spiegato l'assessore Ballardini. Vogliamo rendere concreto i discorsi che si sono fatti in questo convegno. Infatti noi come Comune stiamo promuovendo un progetto che si chiama Buon Mercato che ha l'obiettivo di promuovere la filiera corta attraverso il contatto diretto tra produttori e consumatori. Dopo il convegno su biodiversità e diritti umani la notte rosa continua e il centro di Corsico si anima con spettacoli, musica e moltissime mostre. I cortili hanno preso vita con alcune mostre di artiste italiane e indiane, con spettacoli e incontri, con stand di musica e buffet multietnici e con la presentazione di un libro di Cucina Meticcia. Una notte che, in barba al tempo, ha comunque visto come protagoniste le donne e il loro particolare sguardo sul mondo e che è stata anche occasione per esprimere solidarietà e far riflettere sull'incontro di diverse culture.